Ecco, apriremo questa puntata di cinematografo con uno dei quattro film, un film italiano uscito ieri dalle nostre sale, dopo quella notte con noi il regista Galletta e una delle interpreti. La presenta lei? Lucrezia Piaggio. L'ha scelta lei? Sì. Perché la scelta? Assolutamente sì. Sì, è una storia lunga, comunque ha fatto un provino straordinario e sul set è stata ancora più straordinaria, quindi questo in due parole. Ecco, prima parlavamo della strategia che c'è in atto per quanto riguarda questa pellicola di non far vedere il film ai critici, lei sapeva questo? Io lo sapevo e... Condivide questa scelta? Eh, mi metto un po' in difficoltà, a me io quello che posso dire è che non mi ha fatto piacere. Ecco, basta, va bene così. Ecco, Elisabetta Pelini ha sentito il regista Galletta, questa strategia che a volte, ne parlavamo prima, a volte si mette in atto non far vedere ai critici film. Lei è attrice, di cinema, di fiction, sta facendo anche una fiction. Sì, adesso sto girando Il Restauratore con la regia di Giorgio Capitani. con Lando Buzanca e Martina Colombari. Per la RAI? Per la RAI, sì, per RAI 1, dovrebbe uscire la prossima stagione. Non era presente alla festa della fiction? Sì, sì, in parte sì, sono tornata da Belgrado e appunto ho fatto l'apertura, sono andata. Allora, condivide questa scelta. Ma ci sono delle strategie che sicuramente sono scelte dal produttore, dal regista, io non ho capito se il regista è d'accordo, no, non mi sembra che fosse d'accordo con questa strategia. Il regista ha detto che... Guarda, io se posso dire la mia, di questi tempi già uscire è una grandissima vittoria. Io devo ringraziare la produzione, devo ringraziare la distribuzione. Lei come la vede in questo senso? Secondo me un film più viene visto, meglio è. Quindi anche i critici? E anche un giudizio magari non sempre positivo dei critici può servire per incuriosire il pubblico a fare in modo che venga visto. Poi sarà il pubblico, cioè generalmente mi sembra che il giudizio della critica e del pubblico non sempre concidano. Per cui secondo me è un film... Contano pochissimo, diciamo la verità. No, insomma. Pochissimo. Però, però, Dina Disa è riuscita a vedere questo film, il suo film. Non dirò come, questo è un segretto. Ci dica invece quello che pensa di questo film. Il film, insomma, al di là così della trama, si parla delle stragi del sabato sera. Ho trovato bravissima Lucrezia Piaggio, complimenti, è una ragazza di grande talento e sono d'accordo con il regista e la ricordiamo anche nella fiction famosa, però c'è ancora Pro, mi pare, no? E vabbè, a parte i film, Natale sul Nilo, insomma, queste varie commedie, quindi anche lì con De Laurentiis, mi pare, no? E' brava, l'ho ammirata già altre volte e questo dà un bel ritmo al film e c'è tutto. E poi mi è piaciuta soprattutto l'idea di parlare di queste stragi del sabato sera. Ecco, raccontiamo il film che cosa racconta. Il film sono questi ragazzi che molto uniti, sono due coppie di ragazzi, poi con altri che rotano intorno a queste due coppie, vanno in discoteca, una sera uno di loro si ubriaca, gli altri non si accorgono che è un po' troppo fuori i giri, ecco lì l'incidente, il ragazzo muore. Da lì tutti coloro che sono intorno al ragazzo subiscono un trauma pazzesco, molti si richiudono in se stessi, altri danno di testa, poi c'è una psicanalista Maria Grazia Cucinotta che cerca un po' di parlare con tutti loro, ci sono anche attori importanti, c'è brevissimo Mattioli che fa la parte dello zio del ragazzo scomparso, il quale perde addirittura la fede a questo trauma, quindi un po' tutti si perdono con questa morte, ma alla fine c'è un finale che non sto qui a dire, ma comunque c'è un percorso anche interiore per cui si ritrovano tutti a capire come a volte queste cose terribili possono invece ridare una spinta a vivere. Lucrezia, lei chi è in questa pellicola? Io sono Flavia che è forse il personaggio più autobiografico in cui Giovanni ha messo più di se stesso e si appunto parte da questo incidente e quindi dal dolore e poi nasce il percorso per arrivare a vedere diciamo uno spiraglio di luce all'orizzonte per tutti insomma. Galletta, lei che cosa voleva raccontare con questo film? Ecco, guarda, in due parole io volevo raccontare della vita vera, volevo raccontare della vita nella sua verosimiglianza, nella sua naturalezza, però volevo anche raccontare della precarietà dentro la quale siamo costretti a vivere perché viviamo inevitabilmente in un mondo in cui non c'è nessuna certezza, da un momento all'altro ci può succedere qualsiasi cosa. Io volevo raccontare della vita vera e secondo me per raccontare della vita vera, per risolvere davvero la vita bisogna attraversare e risolvere parima la morte, ecco, cioè per cui volevo raccontare di questo percorso di questi personaggi che si perdono e poi si ritrovano. in due parole il film è un film sul mistero e sul senso della vita, sulla ricerca della felicità, questo in due parole, poi se inizio a parlarne non finisco più. No, sentiamo la professoressa Giannini e anche la professoressa Maciotti, sono due osservatori diversi, psicologa, sociologa, avete sentito in un certo senso il tema di questa pellicola? Professoressa Giannini. Sì, è un tema molto rilevante, le stragi del sabato sera sono un tema attualissimo, pensiamo che le morti per incidenti stradali sono la principale causa di morte fra i giovani, quindi è un tema scottante e affrontato poi da più punti di vista, si cerca di fare prevenzione, si cerca di fare qualcosa per evitare questi fenomeni così drammatici. È molto interessante quello che diceva il regista, cioè il film è un film sulla vita, cioè su che cosa succede nelle persone che restano, nelle persone che debbono elaborare episodi ed elementi così gravi e sono percorsi molto molto complessi perché in realtà si fronteggia il tema della morte che è un tema che specialmente negli adolescenti, nei giovani è un tema sicuramente complesso e difficile da affrontare, quindi l'idea della vita e di come si superano, di come si possono superare certi elementi così gravi è rilevantissimo da un punto di vista psicologico. Professoressa Masciotti? Ma potrei soltanto aggiungere che tutto questo poi è reso più complicato e più difficile oggi dalla situazione generale, per cui bene o male questi ragazzi sono costritti a vivere in famiglia fino a tardi, non trovano facilmente un'autonomia e un inserimento professionale, quindi sono degli forzati eterni adolescenti e questo certamente non aiuta. Sentiamo Elisabetta Pelini su questo tema, lei è una forzata adolescente, ha sentito... Mi piacerebbe essere adolescente, grazie. ...un tipo di pellicola come questa attrae la sua attenzione? Insomma è incuriosita? Sicuramente sì, sicuramente sì. Intanto tutto il cinema italiano mi attrae perché facendo l'attrice cerco di vedere i più film possibili. E poi questo tema in modo particolare è un tema molto interessante che secondo me tutti dovrebbero comunque andarlo a vedere e confrontarsi con queste situazioni. Manuel De Sica, si può parlare, parlando appunto di questa pellicola, di realtà? Lei che conosce bene questo termine, credo. Sì, è una forma di realismo, non di neorealismo senza dubbio. Di realismo già introdotta dagli americani negli anni settanta, voglio dire che è ancora va avanti in Italia, per fortuna prendendo le mosse dal neorealismo italiano. È importante, quello che mi dà fastidio negli attori italiani che recitano in presa diretta è che biascicano con le parole che dicono, non si capisce mai la finale di quello che pronunciano. Questo non succede a Miracolo Italiano, che rivedremo... Miracolo a Milano. A Miracolo a Milano, che rivedremo restaurato. Miracolo a Milano. Miracolo a Milano. Miracolo a Milano.